In visita a Napoli, l'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, John Phillips, ha incontrato a Palazzo San Giacomo il sindaco Luigi De Magistris. Un'occasione, ha affermato, per conoscere la complessità dei temi affrontati, ma anche i numerosi progetti per la città. C'è un ottimo rapporto istituzionale con il Comune, sottolinea, e vogliamo intensificare le relazioni tra Napoli e gli Stati Uniti. Nominato dal presidente Barack Obama il 14 giugno scorso, John Phillips ha iniziato il suo impegno in difesa dei diritti della collettività nel 1971 a Los Angeles. Città di accoglienza e integrazione tra popoli e culture diverse, Napoli rappresenta un centro nevralgico del Mediterraneo. Per il sindaco De Magistris, l'incontro testimonia la volontà dell'amministrazione di collaborare con un paese che ha visitato di recente e di cui apprezza il fascino e le potenzialità.